E come promesso? Sono un uomo di parola È un uomo di parola Ma Riccardo, prima della parola Mi hanno riferito che è dal 56 che non vinci un torneo, è vero? Non è vero È sbagliato dal 63 No, beh, l'ultimo che ho vinto è all'EPT di Sanremo 2010 penso Vinto come primo Cioè, quindi è un evento, vero, vero? Abbastanza, abbastanza da vero Però, se, fare il vincente non è facile Poi eravamo in 103 Poi io l'arma segreta l'ho trovata oggi Comprata da un bambino lì sulle rive del... Cos'è, il Tevere? Per 3 euro Canal grande Canal grande E mi ha accompagnato fino alla meritata vittoria Perché onestamente ero il migliore che c'era il tappo Sì? Mano vincente, raccontacela Dai, 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 dai Lui apre con 6 di quadri, 9 di cuore, 60.000 Io ho call e basta con K di fiori, 10 di cuore Flop, asso, jack 7 con 2 cuori Check, check Turn, 6 di cuori Terzo cuore sul tavolo Check, 150.000 River, 8 di cuori Check, all in, call Mi gira il 9 di cuore Io, tac Cana anche un pochino così di strafottenza E' tremendo Però prima avevo fatto un bel call Avevo fatto un gran bel call con Donna Alta Penso alla mano precedente Sono molto contento Finalmente! Finalmente, era 6 anni che non arrivava premi Grazie! Ma lo sanno tutti Riccardo Si sparla Si sparla Poi dimmi, è un po' invidioso perché sono troppo bello Ho mandato messaggio a Valentini, Rune e Mojo Ci sono fermati in autostrada Tutti e troppo Sono toccati 5 minuti Non ci credevano E allora Riccardo Siamo una squadra molto unita Dal tonde, si vede anche da queste cose Dal tonde, si vede soprattutto da queste cose Voglio farlo Ti voglio premiare Il primo premio del free roll Tu mi avevi promesso anche un altro free roll se vinceva Quale? Free roll è rotto Dai! Ma se c'è anche 2 anni Ho capito Guardo Guardo da 2 anni Allora il primo premio è Riccardo Lacchinelli Ricchi con la targa in mano Voglio il tuo balletto qui Per gli amici di Youtube Assolutamente E' un po' difficile perché c'era anche la parte delle mani Però è così E con questo Non so se avete notato uno stacco di coscia Si, l'abbiamo notato e ci è bastato Amici di Youtube E' davvero finita questa grande maratona Della finale della Snipe Poker Cup Tre giorni fantastici Bello, bello Ci siamo divertiti Tanto, tanto, tanto E' stato bellissimo come sempre Grazie a Snai per un'organizzazione impeccabile E grazie a tutti i giocatori dell'online Che ci hanno Allietato quello che è presente Amici, alla prossima occasione Alla prossima Snipe Poker Cup Che dire Grazie anche a voi E adesso tutti a fare sesso Vamos E adesso Off Allia An Allia Grazie a tutti.